Manca poco alla fine, mancano 40 secondi alla fine, salve regà, mancano, manca poco alla fine, vediamo quanto recupero darà l'arbitro, Juve Lecce 2 a 1, Juve Latte 2 a 1 perché Lecce, in spagnolo, perché no vabbè, noi diciamo Lecce però significa Latte, Juve Latte 2 a 1, Lecce, Lecce, comunque 2 a 1, ha segnato Paredes su punizione, poi ha segnato, chi ha segnato? Manco mi ricordo, oddio, manco mi ricordo, oddio, mi sfugge chi ha segnato, ho la memoria piena, devo sfondare la memoria perché mi ricordo che ha segnato il gol, il secondo gol, vabbè, comunque 2 a 1, loro hanno segnato su rigore, eccolo qua, 3 a 1, no! Vlaovic è vero, Vlaovic ha segnato, infatti Vlaovic ormai è diventato un oggetto non identificato, comunque ha fatto un bel gol, Vlaovic al volo di sinistro, grande gol, diciamo che sto felice per lui perché dopo tutto, dopo tutto i problemi passati, asciugano Povete, Lebede, ecco volevo far vedere ma non ci sono riuscito perché la regia è stata troppo veloce, vabbè, è meglio che non l'inquadri perché sennò veramente scandalo, comunque Lecce ha fatto una buona partita, ha fatto una buona partita e 5 minuti recupero, già uno ne è passato, ha fatto una buona partita ma sinceramente una Juve dopo 3 sconfitte e un pareggio, questa dopo 5 giornate riesce a vincere una partita che poi la prossima sarà contro l'Atalanta, che l'Atalanta non è Lecce, perciò è una squadra molto più ostica, comunque l'Atalanta sta a recuperare punti e si è rinfilata veramente alla grande nella zona Cempio adesso non so, so che stava a vincere però non so se stava a 3 a 2, comunque non so se ha vinto o no, non lo so e niente, perciò diciamo è stata una partita che Miretti si è magnato 3 gol come una casa cioè questo non riesce veramente a buttare da dentro manco con le mani, un gol che aveva fatto erano fuori gioco, dei pochissimi ma erano fuori gioco e purtroppo è così, non riuscimo a cogliere la porta non riesce a cogliere la porta sto ragazzo, purtroppo è molto, no un po' dai un po', su cazzo mancano 3 minuti, 3 minuti, mo mica, almeno portamolo a casa così riusciamo a mantenere il vantaggio su quelle che ci inseguono in Cempio, perché adesso siamo scavarcati alla Lazio dei 2 punti però la Lazio ancora deve giocare, potrebbe ritornare davanti, no, no, è entrato Pobba, è entrato ha fatto un paio di movimenti buoni, diciamo un paio di movimenti buoni, ma oh oh orco giudato, oh cazzo ha fatto un paio di movimenti buoni, come ho detto Pobba, l'ho visto diciamo un pochino un po' più dimagrito deve ancora levare qualche chiletto, qualche chiletto lo deve ancora levare, almeno 3-4 kg minimo li deve da levare ancora, per tornare diciamo, non come quello della volta, ma quasi perché quel Pobba che c'erano noi pesava 78 kg, questo ne peserà almeno un'ottantina, 83-84 peserà almeno, e perciò era arrivato qua, 98 kg mi pare pesava una cosa, una bomba atomica era diventata Pobba comunque è uscito Di Maria, incazzato, Di Maria l'ho visto molto incazzato quando è uscito, è stato sostituito e comunque Di Maria penso farà quest'anno e poi se ne andrà vai Vlaovic, vai Vlaovic, prepotente Vlaovic, di prepotente, fallo, fallo, fallo fallo per Vlaovic, sta buono, comunque il giocatore quello, come si chiama, ecco questo qua che sta in acqua non lo so, comunque, gioca, comunque gioca parecchio, è un furetto, veramente è un furetto nei movimenti mi ricorda un po' quello che c'erano noi del brasiliano, che si sfasciava sempre che non mi ricorda il nome, perciò io gli nomi, ragazzi, sapete come so mi ricorda un po' lui nei movimenti, negli scatti, nei dribbling vabbè, qualcuno avrà capito chi era quello che si è rompera sempre e poi è andato via che eravamo preso dal Bayern Monaco, non mi era il nome comunque e mi ricorda un po' lui, Pobba, 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 Pobba crossa, no non crossa, Pobba ammazza, l'ha scavarcato Pobba, ma che cazzo, rigore, oh rigore, oh, ma porco dici, come sta rigore, oh, l'ha sbregato là, no non è possibile, come ti segna Pobba, ha fatto un pezzo dalla madonna, Pobba potrebbe ritornare in forma, come ho detto, se leva un altro po' di chili, un altro pochino di chili leva, si alleggerisce un po' e allora potrebbe tornare, non proprio quello che è però, gli va vicino, no no no, orco dici, mancano niente, è finita la partita, mancano 15 secondi, 15 secondi, l'ultima occasione forse, butta dentro la palla questo, sta butta dentro, calcio d'angolo, no, calcio d'angolo, fa battere, pensavo che fischiava, calcio d'angolo, niente, fa battere il calcio d'angolo e poi la partita è finita, e niente, come ho detto, Pobba, si riesce a levare un altro po' di chili, penso che potrebbe ritornare a essere un buon giocatore, no, quello del primo, come ho detto però, allora vediamo sto calcio d'angolo, stiamo battendo il calcio d'angolo, è già finita, quindi vediamo come va a finire, niente, niente, c'era pure il portiere del Lecce, andiamo a vedere la nostra, comunque la Juventus batte il Lecce 2 a 1, battiamo il Lecce 2 a 1, soffrendo un pochino, soffrendo, però alla fine portiamo a casa il risultato, dopo diverse giornate, come ho detto, che non riusciamo a vincere, ora la prossima è, ecco, come al solito, la zona scurisce tutto, subito ha levato la diversione, e niente, poche parole, che succede? Succede che giochiamo contro l'Atalanta e vediamo un po' quello che si può fare con l'Atalanta, ok, non è saltato tutto come l'altro giorno, comunque, Juve batte Lecce 2 a 1, una Juve, diciamo, discreta, discreta, però con Lecce c'è sta, perché Lecce, che squadra, parlavo di chiaro, stava proprio l'ottapari di recessione, è normale, ora vediamo contro l'Atalanta quello che facciamo, con l'Atalanta sarà un'altra partita, sicuramente, vabbè raga, io vi saluto, questo è il quanto, ci vediamo alla prossima, ok, ciao raga!